Giornata intensa per Baru al grande fratello Vip, l'esperto di Vini ha avuto una sorta di resa dei conti con Jessica Selassie, con la quale ormai non pare esserci spazio per una conoscenza più approfondita. Anzi l'amicizia che si era creata si sta sciogliendo come neve al sole, con accuse incrociate e frecciatine al vetriolo. Una specie di guerra aperta, nelle scorse ore. Infatti, c'è stato un duro confronto tra il nipote di Costantino della Gerardesca e la Principessa. Con l'uomo che ha fatto trapelare tutta la sua stizza per alcune dichiarazioni della ragazza relative a una sua presunta strategia per restare in gioco e staccare il pass per la finalissima di lunedì 14 sei veramente insopportabile. Dopo che mi insulti anche insopportabile. Veramente hai un coraggio, un bel coraggio, così Baru. In cucina, rivolgendosi a Jesse, mi rompo più le palle. E, la risposta per le rime della Principessa che ha innescato una ulteriore, secca e caustica reazione del cuoco. Sempre la scusa. La luna piena. C'hanno il ciclo. La festa delle donne. Ah. Lei non ce l'ha la scusa del ciclo. È nervosa così. Jessica ha controribattuto. Parlando con Giucas ma di fatto rivolgendosi a Baru. Mi dà fastidio che Baru debba prendersela per qualcosa per cui non mi ha dato la possibilità di spiegarmi. Quel. Qualcosa. È l'insinuazione di. Jess. Che ha lasciato intendere che il nipote di Costantino della Gerardesca potrebbe aver allacciato un legame intenso con lei come pura strategia per restare nel reality. Non c'è più amore. Non c'è mai stato. Quindi cosa devi spiegare? La staffilata di Baru che approvocano un'altra risposta della Selassie. Oltre a essere arrabbiata. Visto che hai detto che non ti fidi di me. L'hai detto pure nella capanna. Perché non mi conosci. Io di te mi fido. Anche se non ti conosco bene. Allora. Prima che noi parlassimo. È stato lecito avere dei dubbi. Dopo però. Jessica ha controreplicato Baru hai detto che io faccio la strategia. Per cosa? Adesso te la faccio vedere io la strategia. Mi sembra un insulto alla persona. All'anima. Ai valori di una persona. Poi se non mi fregasse nulla magari non ci rimarrei nemmeno. Boh. La trovo un'offesa brutta. Solo a questo punto la giovane ha offerto delle scuse all'esperto divini. Senti. Io ero arrabbiata. Ok? Adesso mi sembra esagerato prendersela. Sei deluso. Ma secondo me non devi prendertela. Mi dispiace. Ti chiedo scusa. Qui dentro le pensiamo tutte. Il discorso si è chiuso con i due concorrenti più distorsi.